719 nuovi casi di positività al covid in provincia di Agrigento, 313 guarigioni, 4 nuovi ricoveri e 2 decessi avvenuti nei comuni di Canicattì e Licata. Sono i numeri contenuti nell'ultimo bollettino dell'ASP sull'andamento epidemiologico in provincia che fa riferimento alla giornata di mercoledì 19 gennaio. Sono 64 i soggetti ospedalizzati, 28 in area medica al San Giovanni di Dio, 29 al Fratelli Parlapiano, 2 in terapia intensiva a Ribera, un paziente in rianimazione ad Agrigento più altre 4 persone che si trovano presso i covid hotel del territorio. 15.531 gli agrigentini in isolamento domiciliare. A Sciacca il numero degli attuali positivi sale di ulteriori 75 unità e adesso i contagiati sono 1.236. Il bollettino riporta per la città di Sciacca appena 4 guarigioni. 396 casi a Ribera, 5 meno, 109 a Sambuca di Sicilia, 216 a Santa Margherita Belice, 214 a Santo Stefano Quisquina. Aumenta nei casi a Siculiana dove i contagiati sono 260, 12 in più, 25 positivi al covid a Villa Franca Sicula. 85 nuovi casi ad Agrigento hanno fatto salire a 2.077 il totale dei contagiati nella città dei Templi. Curva dei contagi che continua a salire anche ad Alessandria della Rocca, 106, Aragona, 221 e Bivona, 87. 33 i casi a Burgio, 54 a Calamonaci, 106 a Caltabellotta, 4 in più, 37 nuovi positivi a Canicattì dove i soggetti positivi al covid adesso sono 1.632. 12 casi in meno invece a Cattolichera Crea che scende a 66, 7 nuovi casi a Cianciana per un totale di 158, 54 nuovi casi a Favara che raggiunge quota 1.663, 1.035 casi a Licata, 39 a Lucca Sicula, 293 a Menfi, 8 in più, 36 a Montallegro, 32 a Montevago, 1.279 a Palma di Montechiaro. Numeri dei contagi che restano alti anche a Porto Empedocle, 697, Racalmuto, 292, Raffadali, 474 e Ravanusa, 299.